è tornato il sole su buona parte dell'italia dopo un fine settimana all'insegna della forte instabilità ci sono stati temporali anche molto forti specialmente al centro sud nelle ultime ore come sarà questa settimana questa seconda settimana di maggio 2022 avremo un ritorno della stabilità meteo su buona parte del territorio con un aumento delle temperature sperimenteremo un clima quasi estivo tardo primaverile e in molte località supereremo anche i 25 gradi di massima anche se non assisteremo alle anomalie termiche che si stanno vivendo nell'europa occidentale per esempio nella penisola iberica dove è sostanzialmente già arrivata l'estate ecco sarà una settimana all'insegna della stabilità ma attenzione ancora ai temporali nei pomeriggi perché comunque nelle aree interne di montagna ci potranno ancora essere fenomeni temporaleschi seguiteci come sempre su meteorea d'italia il meteo.net con tutte le informazioni e gli aggiornamenti dei modelli